Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata della serie Proviamolo. Oggi proviamo insieme la demo in uno stato molto, molto alfa di Neon Abyss. È un gioco che è stato presentato negli eventi recenti che ci sono stati, cioè la Summer Gaming Fest, organizzata dai GN in sostituzione delle 3 2020. Questo gioco è stato mostrato più di una volta e devo dire che mi ha subito preso. E sapendo che c'è una demo mi ci sono fiondato, anche se, ripeto, in uno stato parecchio embrionale la demo. Però, di che cosa si tratta? Si tratta di uno shooter platform molto frenetico con elementi roguelike. Mi è piaciuto molto lo stile grafico, mi è piaciuto quello che ho visto di gameplay, sembrava solido, ben fatto e il genere mi piace. Perciò direi che lo andiamo a provare. Vai! Bam! Così? Secco proprio. Si salta con LT? Davvero? Ok. Però il fatto che non si salti con... Eh, vaffanculo, mbè. Grazie. Svariate monetine. I comandi sono strani. Effettivamente il fatto che non si salti con ama con LT è... Terry? Che cosa? Ma che è questo? È un gatto? Ok. Oggetti attivi. Allora, vediamo una... Bomba. Questo? Raggio della morte! No, non mi piace. Ah, ok. Con questo sì. I comandi non sono tanto intuitivi, devo dire. Ah, teleport. Ah, e posso teletrasportarmi nelle... nei vari posti. Ok. Cos'è questo? Morte civile? Tic! Ah! Dio dei mobile video? Ma che cosa... Ah, questi ti fanno malissimo. Ok. Wow, 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 wow. Marticomondo! Ok, è morto, è morto, è morto! Ok. Grazie, slingshot. Ok, aspetta, fammi prendere un po' di cose. Ok, uno scudo. Ah, questo è il livello 1. Ok, tipica cosa molto roguelike. Sì. Ah, con alla fine un megaboss. Allora, nonostante sia in uno stadio di sviluppo molto... Va, spero che si possano rimappare i comandi, anzi. Oggetto attivo... Oggetto attivo... Questo. Cambia oggetto... Y, ok, mappa questa. Allora, interagisci con questo. Va bene. Allora, in sostanza... Solo il salto mi interessava. Ok. Ok. Au. Cos'è quella cosa? Ah, ma mi fa male? No. Oppure sì. Cioè, il feeling in realtà è molto carino, ragazzi. Cioè, credetemi, la sensazione è veramente ottima. Che cosa diavolo è quella cosa? Ah. Ok. No? Magari... Ah, sì. Ha funzionato, però mi sono anche fatto malissimo. Un'altra chiave. Eh, mi sa che morirò malissimissimissimo, eh. Adesso, ragazzi... Sapete che c'è? Forse era... Forse era il caso di... Mi sa che c'era un motivo. Per cui, effettivamente, il salto era fatto con questo. Quel cuore è lì? Au. No. Mi ha fatto... Mi ha fatto male, in realtà. Mi sa che morirò adesso, ragazzi. Sì, sono ridotto veramente maluccio. Magari dentro le casse c'è qualcosa? Teletrasporto. Ah, interessante. Niente di niente. Ok. La morte. Ah, Mektaki, God of Fast Food. Bellissimo. No, 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 no. Sembra abbastanza facile, ma... Io, se mi tocca, non muoio, perciò... Orco mondo. È incazzatissimo. No, no, no. Eh... Eh, sì. Morte. C'è della morte. E grazie di aver giocato. Era questa la demo. Vabbè, comunque... Devo dire che... Nonostante questo... Nonostante è una demo molto incompleta Con tante cose da rivedere E... Una demo breve E infatti muori E poi devi ricominciare un'altra volta Credo senza tenere i... Le cose trovate O cose del genere Beh, ragazzi, comunque Devo dire che... La sensazione è stata buona E credetemi, non lo sto dicendo per... Boh... Per ragioni astruse Ma la sensazione è ottima E... Corrisponde un po' a quello che avevo visto Un gioco ben realizzato Nelle sue cosine Ottima sensazione Quindi... Mi sento di dirvi Tenetelo d'occhio Tenetelo d'occhio, ragazzi Sì Io l'ho già aggiunto alla wishlist Mi sa che quando uscirà Ci farò un pensierino Va bene Ragazzi Direi che per oggi è tutto Mi raccomando Fatemi sapere nei commenti Che cosa ne pensate Vi ringrazio di aver visto questo video E come sempre Mi raccomando Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Lasciate un bel like A questo video Se vi è piaciuto E qui sotto in descrizione Troverete come sempre Tutti i link ai miei social Tutti i link per supportare il canale Il link alla playlist Con tutti i video della serie Proviamole Anche il link per Acquistare il gioco Se lo fate attraverso questo link Aiutate e supportate Moltissimo il canale D'accordo ragazzi? A presto D'accordo